Sostengo Vittorio Angiolini innanzitutto perché ho chiesto io di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico Lombardo, gli ho chiesto di candidarsi perché è una persona che conosco da tantissimi anni, è una persona che innanzitutto nella vita oltre ad avere sempre avuto una generosità sui temi sociali, sul volontariato e nella politica, è una persona che ha lavorato molto in campo universitario, in campo scientifico, è un professore che ha dimostrato talento ed è una persona che è pronta a confrontarsi sia con l'Accademia sia con gli ultimi e per ultimi si intendono più delle volte le persone che hanno bisogno, è una persona che in Regione Lombardia ha vinto molti ricorsi al TAR portati avanti dalla Cigele, portati avanti dal sindacato contro la Regione Lombardia per rendere la Regione Lombardia un pochino meno brutta di quella che la Giunta Formigoni vorrebbe consegnarci anche per i prossimi 5 anni. Io voto e sostengo Vittorio Angiolini per come ho già detto perché è una persona che vuole al centro una persona ed è, permettetemi, una bella persona.